aaaah c'è figura una vita in mezzo ai cavalli e si muo' fatta figurare non va bene così non va bene carabiniere attenti guardate lo soccolo presentatemi ha puntato l'onitrito ha puntato migliadone che mi fa sentire? che mi fa sentire? ora me l'hanno detto i colleghi ma non si può sentire una cosa? che cosa avete combinato? noi ci siamo allenati siamo professionisti con il nostro cavallo tutta la grande poi durante la gara abbiamo cambiato il cavallo abbiamo sbagliato tre settimane di allenamento tre settimane tu eri spettacolare a fare gli ostacoli tu eri meraviglioso a fare gli ostacoli a me mi sbagliato la gara è capitato ho sbagliato il cavallo ho preso il suo io mi sono allenato col mio e col suo non è col mio come ti fa sbagliare il cavallo? come si fa? dico io ma dico io un pochino di cervello io non lo so non ti viene non lo so te lo dice lo zoccolo tu vedi lo zoccolo del tuo cavallo metti un nastrino rosso e sai che il tuo è capito? è difficile? te lo dice lo zoccolo più facilmente hai capito che cosa hai detto? il nastrino rosso il nastrino quello è mio perché allora è comandante? perché comandante lo zoccolo? la logica! grazie comandante comandante lo zoccolo saluta la signora vi è un diritto hai capito? hai capito? io metto il mio cavallo metto metto cazato come stessi Non è pazzesco, è pazzesco. Non ti ho mai visto così. Collega, sapò. Eh, la viata, mi raccomando, la fuda. Cioè, il comandante è stato chiaro e noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, perché poi proviamo con i cavalli nostri e poi alla gara scabbiamo cavalli. Era il carosello, che figuraccia che abbiamo fatto. Il nastro rosso era bello, sullo zocco del mio cavallo stava e prendo il tuo, vedi che pazzesco. Bisogna proprio... Sì, ma il nastro rosso, collega mio, lo sai che tu sei debole sul rosso, si dà il tonico. Quanto vuol dire? Facciamo così, facciamo così. Usiamo il nastrino verde che è più riconoscibile da entrambi. Lo mettiamo sullo zocco del cavallo mio e vedi come risolvo. Facciamo così, proviamo. Speriamo così. Speriamo. Caro il mio cavallo, basso, mota giusto. Chi? Io ho la prima volta per me, E' pazzesca, è pazzesca. Ci siamo scambiati cavalli da casa. A me è cosa dici? Cioè abbiamo messo il nastro rosso e ci siamo scambiati i cavalli l'abbiamo messo in assino verde e ci siamo di nuovo scambiati i cavalli il cavallo a sinistra è tuo è quello mio, beh è quello a destra è il cavallo tuo ho trovato la soluzione noi non siamo a cavallo da domani non ci sbagliamo più ma? ricordiamoci, memorizziamo quello bianco è mio e quello nero è tuo così è difficile che ci sbagliate